e ho visti tanti tanti di spot realizzati così a casaccio ma questo qua è è azzeccato è azzeccatissimo lo spot di Zlatan Ibrahimovic contro il virus il virus mi ha sfidato ed io ho vinto ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus usa la testa e rispetta le regole, distanziamento e mascherina sempre, vinciamo noi e io aggiungerei indossate quella giusta ecco perché con quella giusta apparite più disinvolti non che non che sia di rilevanza però quella giusta quando siete in giro a casa non non ce n'è assolutamente poi bisogno ecco al di là delle dietrologie e al di là di ogni di ogni pensiero personale perché poi c'è quello che non ci crede c'è quello che dice no ma che personaggio comunicativo hanno scelto siamo 60 milioni di menti pensanti, di teste pensanti e ognuno ha un carattere, un'idea, un pensiero che differisce da ogni altro essere umano per cui non ci accozzeremo mai però al di là di tutto lo spot è azzeccato perché la persona giusta al momento giusto anche metaforicamente parlando perché Zlatan, sappiamo tutti, idealizzato a Dio come appunto la storia biblica narra il figlio che manda Gesù sulla terra e lo mette in croce così Zlatan si becca il virus e poi funge da insegnamento e come posso dire comunica a tutti qual è la giusta strada da seguire ci sono un po' dei parallelismi se vogliamo ecco perché lo trovo azzeccato poi ognuno può vederla a modo proprio poi è innegabile che al momento a Milano ecco perché lo spot è condiviso con la regione appunto Lombarda a Milano se c'è un personaggio al momento che è sopra gli altri è proprio Zlatan se ne parlano tutti, capo cannoniere della stagione, il suo Milan è in testa momentaneamente e speriamo soltanto momentaneamente alla classifica per cui se vuoi far arrivare un messaggio e ribadisco giusto o sbagliato che sia poi ognuno dica la propria, questo è il soggetto ideale Zlatan Ibrahimovic che oggi scende in campo tra poco oggi, tra poco scende in campo tutti ruotano, tutti magari riposano perché tutti soffrono e patiscono lo sforzo lui no, lui stasera gioca anche nuovamente in Europa League ovviamente guarderò la partita e la commentiamo nel post gara ma niente, così, al volo, volevo dire la mia su questo spot ogni tanto mi va di uscire fuori dal seminato di buttarci un video così dove si va al di là del calcio ovviamente si tratta sempre di un personaggio calcistico ecco perché ne discuto e voglio sapere però anche in aggiunta la vostra sotto nei commenti me lo dite, me lo fate sapere così e ci becchiamo dopo la gara va bene? un grande abbraccio da Neschio e ancora una volta in giro indossatela, indossatela quella nera azzurra possibilmente un grande abbraccio da Neschio azzurra azzurra azzurra